è bellissima come una Madonna poi ne abbiamo fatto fare la Madonna in uno spettacolo e allora, da allora è diventata la Madonna Gino, dove ti metti? a dove ti metti qua? no, ti metto Cina Maria perché Maria ha una vocina ecco, Maria che manda? ecco, Maria, un bel applauso allora, buonasera a tutti non vuoi, ma che accontate? penso che sei mai riuscita oggi, noi ringraziamo il giocatore vostro che ci avevano fatto nascere e noi, a pace a calma loro che ci stavano giù speriamo che ci stavano in paradiso perché ci vanno meritati tu sei nata a piedi come noi so io sono nata a bella come la luna alcune persone sotto il vostro pezzo che non può fare la luna che mi è? ci siamo gani chiusi ci siamo rappresentati ci siamo corteggiati e ci siamo spassati tu non ricordo che ci siamo spassati ma come non ricordo? ma io ho pensato a bella giornata io ho composto come una bamba che mi sto a piacare ma non ricordo proprio è bello fu pure una bella giornata non manca due atti ma che stai mi chiesto al signore quando ci siamo spassati? che ho visto ma tu figli mi basta e una figlia però il tuo figlio ce l'ha mandato ma ce l'ha mandato il tuo figlio ma lo sa che io gli ho cucito perché sono due belle o agliorno una è nata bella come il padre una è nata bella come il me che la luna è il sole e ci aveva dato una bella soddisfazione ci aveva voluto bene ci aveva spassati ci aveva fatto un pieno marito e poi tu e chi ama il ruolo forse no ma non manca faceva tutto questo tu che dici? è di bene è di bene moriamo a Gesù e la luna la luna è bella perché uno quando si fa una camminata la sera e c'è sta la luna cammina tranquillo cammina sicuro ci vede l'andante ci vede la rete a destra a sinistra cammina sempre una paura per niente e quando ci stai soli ti dà fritta ti fai una camminata e io so tu cammini tu devi camminare perché ti dà camminare? a me mi diceva una giocatura mia quando c'eva la pateta che c'eva far diceva oh mai me lo do la pateta e fa che la dice a tu sta questa pateta e lei nella vita io è bella noi diciamo pure su al giorno nostro ci ha votato la soddisfazione è più bella che ci ha votato e perché ci ha votato tre piedi e una buca che tra la luna e le somme devono mangiare le stelle non so piedi sono proprio a tre stelle e ci vuole un bene pazzo la sera quando vi ho detto ci vuole dare la buonanotte ci alliscono ci baciano ci accarezzano ci fanno le goccole e noi non sia proprio bene puoi dire io non so che c'è la pancetta non la pancetta tu hai venuto quando non vende lui tu hai pensato ma io ma tu si rinnovate e però tu so dite oggi non se te ricordo quando ci siamo spessati in maure luca la tu lo so dite perché sono passati in maure la trai la conoscenza matrimoni e tutte cose sono passati sessantano A 30 punti, sono 60 anni che stiamo in terra, allora, io sono fatta casa buona su un dono nostro, la famiglia mia, che mi hanno fatto tenere i capellucci bianchi, e poi prima non ci facevo a casa perché avevo la cataratta, e non ci volevo da più, ma che ci vede? Sono fatta casa a parecchie cose, sono guardato il buon atteggio, penso che ci sono rimaste alle persone, non? Tu no, la bedica e l'attenzione, senza diente, che fritte di barbandaccia che ha gioito a far dela, ma di piena come una. Ci sono di frutto quando è andato a me andato a me andato a me andato, non sono d'attente. Non ci vuole andare a me andato a me andato a me andato a me andato, grazie. Ma sono arrivata a me andato 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 a me andato, E' un'altra cosa, non lo devo, purito, senza niente, capito di anni, ma se hai cercato, io lì per me faccio, magari non c'è dentro che ne ho provato a dentro, ma non c'è brutta che dentro, che la luna non ci vediamo più, guarda per l'aria, la stella non lo vedo che sono cercato, che sono venuto a riscaldare più, e come facciamo noi stiamo sempre a lato. Ma tu non mi ti ha pensato pure a che se mu? Ehi, come fai? Ah, riscaldare il benzino. Oh Gì, ma non mi ti ha pensato più a me, ma come non mi ti ha pensato più a te? Ma come non mi faccio? Ma voglio te conoscere la carriota di lena, piccola, fuga, se mettiamo in cima, se scaldiamo, e poi siamo a dormire, calma. Ah, se dito, non mi è una cosa buona, e beh, se ficiamo in letto, calma, calma, se estreniamo, se mettiamo il ucino, se abbracciamo, non è ne da dire e ne da fare. Ma non mi ti ha pensato più a me, ma vai tu!